Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con i nostri gamberetti, signori miei, per continuare il sogno verso la Premier League e forse qualche trofeo, non si sa, ma la conquista nel mondo è il nostro obiettivo, signori miei. Detto questo ragazzi, prima di partire con il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook e se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite Paypal. Trovate il link per fare tutto questo ambaradano di cose sotto nella descrizione del video. Detto questo, signori miei, non perdiamo tempo e partiamo proprio col video. Ho detto troppe volte il video, può essere? Sì, sì, sì. Ok ragazzoli, allora, noi ci siamo fermati l'altra volta al 2 novembre perché non è arrivato un sacco di mail. Rese conto squadra giovanile, dovremmo un attimino andare a vedere come sono venuti i nostri giovani. Offerta per la nazionale, non ci interessa. Aggiornamento di Nicky, Nicky che ci ha portato Nicky dall'Arabia Saudita. 6082, Amen. Allora, questo è già solo il nome, signori miei. Il nome vale tutto. Uno che si chiama Amen andrebbe preso a prescindere. Ma non è il giocatore che ci serve. Poi abbiamo Abuessa. Abuessa no, non ci interessa. Ismail no. Lo rifiutiamo pure lui. E Aqual. Niente, Aqual no. Nemmeno, raga. Ci servono almeno che abbiano un potenziale che arrivi a 90. Poi abbiamo Bell. Bell che dal Messico ci porta a Ghier. Un 89. C'è un buon prospetto, però, signori miei. Ma no, lo rifiutiamo. Raffaele Villalba. 70-94. Ecco, questo è già tanta roba. 70-94. Questo ce lo portiamo a casa subito, subito. Giuse Miranda. 68-94. Questo lo lasciamo lì un attimino a crescere. C'ha 15 anni. Monte. Monte, monte, monte. Non ci piace. Monte, via. Fuentes. Non ci piace manco Fuentes. Via. Miranda lo teniamo lì a far la muffa. E poi abbiamo Morris che ci porta dal Portogallo. Amaral. 74-94. Questo è interessante. Seguiamolo ancora così. Da lontano. Valente no. Valente non è per niente valente. De Mesquites. Meno male che sei brutto perché, sai, prima che ti chiamo già hai cambiato fascia. Victor Simpaio. Simpaio, Simpaio. C'ha un buon potenziale. Teniamolo anche lui lì. Telmo Rodriguez no. Inguardabile. E qui il capellone Tiago Abru. Tiago Abru, signori miei, è fantastico. Tiago Abru è fantastico. Teniamolo anche lui lì. Teniamo questi tre portoghesi qui, signori miei. Che non sono per niente male. Non sono per niente male. Non sono per niente male. Continuiamo ad osservare. Continuiamo ad osservare. Noi dovremmo anche fare una sorta di cernita dei giovani che abbiamo nel vivaio, signori. Perché dovremmo un attimino capire chi promuovere e chi no. Comunque, ancora abbiamo tante stagioni davanti a noi, signori miei. Che offerta è ritirata. Bello così. Vi immaginate, no, a fare l'allenatore del Perù. Ma chi? Allora, i giocatori impegnati con la nazionale. Ecco. Nicholson con la scozia. McKinley scozia. Edama Cameron. Coruma Cameron. A posto non abbiamo il portiere, raga. Porca miseria. Ci abbiamo un grosso problema. Non in questa partita, giusto? Ce l'abbiamo in questa partita del portiere? Ce l'abbiamo. Perfetto. Meglio così. Allora, Hamilton gioca. Qui mettiamo Lima, perché Salazar si è rotto. A posto di Watanabe torna Mitchell. Amponsar Raid va bene. A posto di Nicholson facciamo giocare Sposilo, se non mi si arrabbia. A posto di Morris facciamo giocare Naga. Naga è destro? Naga è destro. Lui è pure destro. Allora, facciamo così. E al posto di Claudio rimettiamo Morris. Così abbiamo il sinistro a destra e il destro a sinistra. Perfetto. Casa Dei. E poi non toccherei più niente. Claudio già gli è venuta la faccina brutta. Dai. Per una piccola panchina che sta a fa. Harwood non vede più la panchina nemmeno da lontano. Però io un centrocampista, un difensore, me lo porterei. Sì. Allora, Mariani, Alvarez, Dudu. Leviamo Dudu, signori miei. Leviamo Dudu e ci portiamo un difensore centrale almeno. Abbiamo un sostituto. Kuruma, Dudu. Capitano Peter Pan lo teniamo lì. Peter Pan lo teniamo in panchina. Ok, vai. Scendiamo in campo così. Scendiamo in campo così. Ricordiamo che il nostro obiettivo... Questa è la nostra prima stagione in Championship, raga. Contro Sheffield United. Torna Papamaullo a dar la benedizione a questa squadra. Sabato 5 novembre. Loro vengono da un pareggio contro il Charlton. Che cefamo noi? Dai, raga. Dai, Camberetti. Dai, Camberetti. 1-1. Mamma mia. Siamo andati in vantaggio al primo minuto con Raid. Ci hanno pareggiato al 46 e non siamo riusciti a trovare il secondo gol. Mannaggia. È entrato Nicholson al posto di Raid. E ha munito Hamilton. Uniche note particolari di una partita inutile. È un 1-1 assurdo che non serve da nessuno. Però va bene. Allora, andiamo ancora con gli allenamenti. Allenatevi, 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 allenatevi. Brevi ragazzoli. Nessuno cresce. Peter Pan, che dobbiamo fare? Sei ancora a 65. Manca a 65. Sei Peter Pan mio. Così non andiamo bene. Siamo noni. Siamo noni a parità di partite, raga. Porca di una paletta umbriaca, raga. Alt, 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 signori miei. C'è un problema di base. C'è un problema di base. Allora, intanto mi manca un giocatore qua da allenare. E mettiamo ad allenare, mettiamo ad allenare. Chi mettiamo ad allenare? Questi già si stanno allenando. Raid, Alvarez, Dudu. Dudu non si sta allenando. Allena di Dudu. Qualcosa di difficile. Controllo pala, drible, agilità, faccia da scappare. Fatto. Controllo pala, dribbling. Facile, facile, normale, difficile. Potenza dire. No, allora andiamo su questo di qua. Via. Così, cresci lì. Dudu mio. Oh, Peter Pan sarà a 65. Meno male. E meno male, Peter Pan mio. Se no, non lo vedi proprio il campo, dico. Eh, un poco più di entusiasmo. Raga, io ho visto un attimo la classifica. Praticamente il sesto posto dello Swan City a 33 punti. Cioè, siamo 10 punti sotto a parità di partite. Se mi apre la classifica. Se mi apre la classifica, forse riesco a farvi vedere qual è la situazione attuale. Non me l'apre la classifica, raga. Si è buggato tutto. Ah no, ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo? Porca miseria. Lo Swan City a 33 punti. Noi siamo a 23. 10 punti sotto. Chi c'è primo? Il Barley a 45. Il Crystal Palace a 45. Sheffield. Nottingham Forest. Litz e Swan City. Bristol Hull. E Morecam. Mamma mia che siamo messi male, raga. 10 punti sono tanti. Porca miseria. 10 punti sono tanti. E adesso abbiamo il Crystal. È il Crystal Palace, è questo? È il Crystal Palace. Dimmi che ho i miei giocatori. Ok. Allora, io direi di levare Morris e far giocare Claudio prima che mi si incavola. Torna Nicholson, prima che mi si incavola pure lui. Al posto di Amponsa facciamo giocare Mariani. E al posto di Casadei dovrei fare giocare Kuruma. Ma Kuruma è inguardabile, raga. Improponibile Kuruma. Va bene così, va bene così. Andiamo in campo così, raga. Vediamo se riusciamo a portarci a casa magari 3 punti. Dai, 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 dai. Magari 3, magari 3. Ospiti contro il Crystal Palace. Vincere contro il Crystal Palace sarebbe importantissimo. Loro vengono da una vittoria per 3 a 0 contro il Charlton. Il Charlton. Noi che ci fanno? Perdiamo 3 a 1, e lo sapevo. E lo sapevo. Era difficile. Contro il Crystal Palace era difficile, raga. Nicholson ha trovato il gol sul rigore. L'unica sostituzione è stata a Raid per Amponsa. Mannaggia. Mannaggia di una miseria. Mannaggia di una miseria. Un pareggio e una sconfitta. Che non ci fanno per niente bene, raga. Però, dico, dai. Riusciamo comunque a rimanere in Championship, raga. Senza retrocedere. Il nostro primo anno, considerando che siamo stati promossi l'anno scorso, sarebbe già tanta roba. Sarebbe già tanta roba. Andiamo dai, veloci, veloci. Giocare la terza partita. La terza partita del video. Dai, 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 dai. Voglio chiudere con una vittoria. Morris vuole giocare. Oh, Naga se le giocate le sue partite. Mi sembrerebbe che non si può lamentare. Morris ci penserò. E Harwood ci penserò. Harwood vuole giocare. Va bene. Mi sembra anche giusto, perché non sta vedendo il campo, praticamente, da non si sa quando. Allora, a posto di Hamilton. A posto di Hamilton gioca Harwood. Drollo, Mitchell. A posto di Raid facciamo giocare un po' in sa. E a posto di Claudio torna Morris. Che d'è col sinistro, quindi lo mettiamo di qua. Naga in panchina. Esposito. Ok. Vediamo se riusciamo a chiudere con tre punti a casa, raga. Vediamo se riusciamo a portarci tre punti a casa. Vediamo se riusciamo a portarci tre punti a casa contro il Charlton. Oh, siamo a casa. Dico. Non dobbiamo nemmeno fare la fatica. Loro vengono da una sconfitta contro il Queen Park Rangers. Che ci fanno? Vinciamo 3 a 1. Buono, buono, buono. Gol di Claudio, di Nicholson e Amponsa. Ammonita, Amponsa e sono entrati Raid e Watanabe per Drollo e Casadei. Va bene, raga. 3 a 1. 3 a 1. Ci sta. 3 a 1 che ci sta. Chiudiamo il video. Alvarez, mi ringrazia per l'opportunità, ma io non ti ho dato nessuna opportunità alvarez, però va bene, ti fai di qualcosa di pesante. Apprezzo il tuo impegno, non so cosa sia. Prestazione attorevole e Harwood, ottimo lavoro. Sono contento per Harwood. Ha preso fiducia. Le mail le abbiamo fatte tutte. Andiamo alla prossima partita che è il 26 novembre e ci fermiamo qua, raga. Allora, offerta per l'allenanza non ci interessa. E Salazar è tornato all'infortunio. Perfetto, ok. Va bene, ragazzoli. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga. Ciao. Ciao.